Tutto è partito da una denuncia di Atusbef e FederConsumatori sui tassi Euribor, ossia l'indice che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. Un'inchiesta che venerdì scorso, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi, ha portato al sequestro di documenti e mail che hanno viaggiato tra Milano e Londra nella sede lombarda della Barclays da parte della GDF e del PM di Trani Michele Ruggero. Si tratta dello stesso magistrato che ha indagato le carte revolvie ingusurarie dell'American Express e della Barclays Bank che comunque ha già accettato di pagare una multa da 290 milioni di sterline, circa 400 milioni di euro. Il PM Ruggero, ricordano i consumatori, ha aperto un fascicolo per truffa aggravata e grave manipolazione dei mercati a carico di ignoti e dopo aver costituito un pool di esperti indipendenti per accertare le gravissime manipolazioni dei tassi Euribor ha visitato gli uffici milanesi della banca britannica Barclays con l'obiettivo di cercare le prove che anche con l'Euribor, proprio come con il Libor, l'altro tasso di riferimento per i mutui variabili, Barclays abbia operato una manipolazione con ricadute negative sui tassi dei mutui pagati dagli italiani. La paura è che si ripeta quanto accaduto con il Libor. Con il Libor sostengono i consumatori. La Barclays ha deciso di adattare il tasso a suo piacimento, penalizzando i consumatori e falsando un mercato che fa girare annualmente cifre attorno ai 350 miliardi di dollari. Le associazioni dei consumatori stimano in 2 milioni e mezzo le famiglie italiane pesantemente danneggiate dalle presunte manipolazioni dell'Euribor, con una media di 1.200 euro di danni pro capite subiti da tutti i cittadini cui contratti di mutuo hanno tassi di interesse legati a questo indicatore.